Cerimonie finte, 64 denunce, ragazzi piacentini e parmessi tra i 18 e i 35 anni accusati di vidipendio della religione organizzavano finti matrimoni e battesimi con fette di salame usate come ostie. Anziana, sequestrata dai ladri, la donna si è affacciata al balcone ed ha chiesto aiuto ai vicini, è successo in via Schiavi, residenti, siamo abbandonati. A colpi di mazza nel bar, ladri incappucciati tentano il colpo in un locale di via Colombo, l'allarme fumogeno li mette in fuga, ecco il video dei malviventi in azione. Orecchio bionico, già a nove mesi, Domenico Cuda, primario di Ottorino la Lingoiatria nel Mirino, ha parlato del reparto di eccellenza e dell'importanza della prevenzione. Renzo Arbore alla conquista di Piacenza, successo per lo spettacolo dell'orchestra italiana al Politeama. Tre ore di show tra gli applausi, al Giordi di San Nicolò invece Diego Batantuona ha presentato belli di papà. Lions è quasi fatta, rugby, festa al del trametti per la salvezza in eccellenza ormai scontata. Normeccanica domani la prova della verità, il Piacenza attende invece il stregno.